Ciao a tutti amici di PIV, eccoci in diretta da Nova Gorizia, c'è appena stato un player out qui al tavolo televisivo, sono sceso nell'arena dell'hotel Casino Perla qui a Nova Gorizia, come vedete siamo in diretta, queste immagini le vedrete trasmesse anche su Poker Italia web nella sezione streaming dove c'è un tavolo diretto del Deepstech Pro, seguiamo qualche mano poi lascerò questa parte sotto e ritornerò nella sala, sono 10 tavoli ancora in gioco, 86 le persone che stanno giocando per aggiudicarsi questo prestigioso torneo, che dire vi aspetto come sempre su Poker Italia web.